Sto chiamando 8 carabinieri E salve vorrei fare una denuncia A carico di chi? Matteo Pro 2011 Mi dice dove? In Croazia post Rabatz Va benissimo ma diamo subito una pattuglia Salve arrivederci Arrivederci Adesso ti arrivano i carabinieri a casa Cos'è? La polizia Dai ma che scherzi Dai l'ho chiamata hai sentito? Dai che cosa fa? Arrivano i carabinieri Ma dai Ma cosa hai fatto? Dai però Matteo sto scherzando Dai Vedi che ti spruzzo tranquillo Dai però cosa hai fatto? Non piangere Ciao ragazzi vi ricordo che ogni giorno dalle 17 sono in live su Twitch E ringrazio loro per avermi seguito su Instagram